Utilità Bella Allora Che sono le freste? E' difficile trovarle Che sono le freste? Aspetta Ce ne stanno tantissime E' più di scena E' più di scena Auguri! Grazie Adesso è il binglese ragazzi Ah si giusto E a questo punto Alla vostra Evviva Alla vostra Auguri Ma perché domani sera Non venite a cena a casa nostra Magari ci facciamo un girammi Dai potremmo fare uomini contro donne Lei gioca? Scusi? Come? Lei gioca? No no grazie Sono un disastro Poi adesso col bambino Ah beh Ma domani non andiamo all'osservatorio A vedere la cometa? Ah già domani è il primo giorno E' vero No dicono che si possa vedere Già da stasera L'hanno detto in tv Deve essere uno spettacolo incredibile Ah si? Come no? Hanno organizzato una grande festa Sarà il solito circo? Tutti col naso all'insù A guardare la cometa